la figlia della lupa di cui tu parli quanto ti preoccupa mi preoccupa molto perché è molto attiva e molto intensa è personaggio indubbiamente di valore nel senso di qualità comunicativa e di capacità di stabilire e di stabilire un contatto non soltanto con una persona ma con molta gente in un modo che porta a un certo successo per questa ragione non posso non essere preoccupato perché ma perché per giudicare certi fatti bisogna pensare a se fossero delle se fosse una situazione di fiction se fossimo gli autori in questo momento di un film su sull'ameloni le faremmo dire nel copione che la sua esaltazione oggi oggi e cioè ieri le faremmo dire la sua esaltazione per vox e per il partito più fascista che ci sia e che ci sia in spagna le faremmo dire il suo sostegno appassionato e in deflesso per orban e l'uomo decisamente più lontano dalla libertà e della capacità di tolleranza per gli altri esseri umani che ci sia in europa è probabilmente uno dei peggiori leader che il che il mondo occidentale abbia avuto glielo faremmo dire io credo che arriverebbe un produttore che direbbe no no non esageriamo siamo il film non è favorevole la melone ma non arriviamo al punto di farle dire certe cose perché appariremo esagerati e deliberatamente ostili ecco il fatto è il fatto curioso è che la melone appare esagerata e deliberatamente ostile a se stessa perché ha lodato ha richiamato in carica in ca in causa la questione vox che è una delle più discutibili e anche delle più no diciamo diciamo che viene da chiedersi se i numeri sono quelli che noi abbiamo lasciato qualche giorno fa e poi nel suo sostegno ripetuto e ribadito per scusami ma ti sento poco e mi arriva poco la voce e il suo ribadito sostegno per orban che è probabilmente dal dopoguerra il peggior leader che l'europa abbia patito allora furio ti fermo ti fermo perché poi i numeri che noi